Doveva essere la vacanza premio dopo la maturità, una settimana felice da trascorrere nella splendida isola greca di Corfu, insieme a due e suoi cari amici di Pannarano. Invece tutto si è trasformato in tragedia. Ieri pomeriggio, intorno alle 16, Elvio Cheche, 19enne originario di Apice, mentre nuotava nella piscina dell'hotel in cui risiedeva, è stato colto da un malore ed è morto. Inutili i soccorsi ed il trasporto nell'ospedale dell'isola. Oggi il padre e la sorella di Elvio sono partiti per la Grecia, dove si attende l'autopsia, che accerterà le cause della morte del giovane, che da circa dieci mesi si era trasferito nel vicino comune di San Giorgio del Sannio, insieme alla famiglia. Siamo sconvolti, racconta un amico di Elvio. Ho appreso la notizia ieri sera, verso le 19. Sarei dovuto partire anche io con loro in vacanza, ma i miei genitori non hanno acconsentito. La cosa strana è che Elvio era un buon nuotatore, sarà sicuramente stato colto da un malore improvviso, è l'unica spiegazione. Elvio si era diplomato all'istituto Guacci di Benevento ed era partito lunedì scorso per Corfu, insieme ad altri due nostri amici. Sarebbero dovuti restare lì una settimana, invece è successa questa immane tragedia.